Trasporto pubblico sempre più nel caos. A Salerno 30 i turni di lavoro saltati con corse che a volte non partono come accaduto martedì a Sordina ma anche sulle grandi linee come la Salerno Battipaglia. Si scontano tre grandi problemi dice il coordinatore regionale della FIT Cislezio Monetta. Una carenza di personale strutturale, l'emergenza covid ed il mancato finanziamento alle aziende che erano impegnate per implementare le corse nelle fasce orarie di maggiore fruizione. Un servizio rivolto questo soprattutto all'utenza scolastica. Solo fra Bus Italia Campania, Salerno e Sita Sud sono circa 90 i lavoratori assenti perché contagiati e non sempre si fa ricorso allo straordinario per sopperire alle assenze. In Bus Italia Campania, scrive la Cisle, per il contagio dei dipendenti ed il blocco degli straordinari dall'inizio dell'anno si è arrivati ad un servizio definito, pessimo e a gravi difficoltà per il personale operante. La conseguenza di tutto ciò colpisce soprattutto i lavoratori e gli studenti anche perché c'è stata la sospensione delle cosiddette bis scolastiche, quelle corsi assicurate da aziende di trasporto privato che consentivano di evitare assembramenti di studenti per andare e tornare da scuola. Un problema questo a cui si deve dare immediatamente risposta anche in ragione dell'andamento della pandemia, dice sempre la Cisle, che è già inviato ai prefetti della Campania una nota in cui si evidenziano i problemi suddetti sperando in soluzioni immediate.